Benvenuti nel giardino di Gersington. Questi giardini sono nel cuore di Londra e saranno aperti fino al tramonto. Non conosco la storia di Chris e Peter, che quando era bambino è scappato dalla finestra. No! E ora abiti Melissa e Ninja insieme ai bimis mauriti. Sì! Tutti quei bambini, c'è il bambinaio troppo distante. Ci sono stati per il cuore di giardino. Ma che sciocchini! Deve fare! Ma si sa che vanno a stare vedere le occhi umani, il loro unico amico umano, tutti i giardini. Già, ma lui non è né un ucciallo né un bambino. Pensandoci bene, è mezzo e mezzo. No! 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 Oh! Peter. Adesso capisco perché piangevo. Non piangevo per te da mia mamma ma hai tu qualcosa Ombra. E poi un angelo mi piacevo? Beh, un ombra ti posso aiutare io? E magari ti posso dare un vaso. Un vaso. Ma come? Non so che cos'è un vaso? Vediamo che cosa so. Un italiano. Ecco il tuo vaso. Grazie. Quanti anni hai? Non lo so, tu hai visto, ma sono giovanissimo. Sono scappati di casa quando ero piccolo. Perché senti come i genitori parlano di quello che sarei diventato quando sarei cresciuto. Io non voglio crescere, voglio rimanere sempre bambino e divertirmi. Scusi, perché non vieni con me in Isola che non c'è a raccontarci le faglie? Non posso, penso alla mamma. E poi io non so volare. Ma che insegnerò io? E lo potrei insegnare anche a Gianni e a Michele. Certo! Gianni, soveglia, ti è anche tu Michele. È arrivato qui per fagli, ci insegna a volare. Ecco che sono pronto. Eccomi, ci sono anch'io. Ma come si fa a volare? Basta pensare a quattro eravigliosi, sono questi che mi tireranno su. Corriere la cioccolata, le avventure. Le fate? Certo, presto vogliono mezzo di fra che non c'è. Vivi Lavi! Uno, due, tre, musica! Uno, due, tre, musica! Devo catturare il Pilbismani ed avere qui tra le mie mani, per non vorremmo dire la mia mano, il loro caro Piedertano. Vi ho mai raccontato cosa mi ha fatto quel danno Piedertano? E non ho Capitano, racconti! E' stato lui a tagliarmi la mano, a gettare un coccodrino che passava di là. La mia mano gli è piaciuta così tanto che mi sembra fermare e per terra, in attesa di gustare il resto del mio corpo. Beh, in un certo senso, è segno che vi apprezzi. Scherzato. Beh, per fortuna ha inghiottito una sveglia che sento a fare il Pilbismani e se so. Ed io quando sento quel Pilbismani, la scuola. Beh, ma un giorno o l'altro la sveglia si fermerà e il coccodrillo vi prenderà di sorpresa. Spugna! Spugniamoci a tutti e continuiamo la caccia. Svegliatevi! Svegliatevi! Dobbiamo cercare di cercare di cercare di... Spugniamoci a tutti e continuiamo la caccia. Svegliatevi! Svegliatevi! Che bella sua passata ragazzi, vero? E vero? Sì, sento! Adesso però tutti a letto, è davvero troppo tardi. Forza Gianni, Gianni Chiere, tutti a nato! Andiamo! Ora abbiamo andato da questi moziosi, non ci resta di aspettare. Peter verrà salvato, e noi lo cattureremo. Ma nessuno trova stroccio di un capello. Peter è mio! Peter è mio! Fulmini e franfette, qui ci sono degli spiriti! Aiuto! Mi senti spirito? Fulmini e franfette, ti sento benissimo! Ehm... Chi sei tu, straniero? Sono Capitano Uncino! No, sei tu Stano Uncino! Io chi sono? Sei un baccalà, nient'altro che un baccalà! Eh, baccalà! Sono stati rimandati, per tutti questi anni, da un baccalà! Hai anche un altro nome? Sì! Un'altra voce? Sì! Sei un vegetale? No! Un minerale? No! Un animale? Sì! Sei un uomo? No! Sei un ragazzo? No! Un ragazzo normale? No! Un ragazzo speciale? Sì! Ebbene se lo vi serva! Sì! Sì! Prendi la spugna! È nostro! Uh! Uh! Oh! Sì! 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 E così decisero di rimanere a casa, dalla donna per la mamma e loro papà. Anche i picchi sbagliati andavano con loro e furono portati dai signori dati. Ma Peter no, vi preferite di tornare all'isola che non c'è. Eh già, non volevo poter rischi di diventare grande. Volevo restare per sempre un bambino e giocare il giro a tutti. Grazie. Grazie.